La città si svelia piano piano, il mercato settimanale sulle due piazze del centro questa mattina animato. Da chi non è mai partito per le vacanze, entrate in una convulsa fase di cambiamenti. Vado in Sicilia a casa e quindi sono a posto. Andiamo in Sardegna una settimana, qualche giorno, niente di più. Non ci andiamo, continuiamo a lavorare. Andiamo all'isola d'Elba una settimana e speriamo che vada tutto bene, che non ci siano problemi anche in spiaggia e si possa stare un po' tranquilli. Quest'anno noi siamo andati al mare, siamo stati per un paio di giorni, poi non come al solito una settimana, però un po' le vacanze le abbiamo fatte. Vacanze, si inventano cose nuove, luoghi nuovi, anche paesini per tutto l'anno quieti, si animano di suoni, profumi. Andremo a Ferriere e passeremo lì una quindicina di giorni. Un bel problema, vacanze quest'anno non andiamo, abbiamo deciso di non andare. Noi abbiamo la casa a mezz'anno scotti e probabilmente passiamo una settimana, dieci giorni a mezz'anno scotti. Abbobbio quest'anno. Si farà magari un piccolo weekend, si cerca di scappare qui sui nostri torrenti, sulle nostre vallate e cercheremo, come stiamo facendo noi, di fare dei weekend con piccoli campeggi, piccole passeggiate, andiamo a scoprire la nostra terra. Destinazioni più vicine, tra le destinazioni vince la Valtrebbia, ha aumentato il turismo interno. Niente, perché io di solito vado all'estero e finché non è passato proprio tutto. A casa di solito, ultimamente a casa. Farini con la famiglia. Vacanze, per il momento non si parla di vacanze. Tutto, ci stiamo a casa perché sono stato in giro tutto inverno. Che prenoteremo da qualche parte, un bed and breakfast, una colazione, cena, io e la cagnolina e basta. Voglia d'estate. Ciascuno ha fatto e farà, quest'anno in particolare, farà come può. Forse non proprio, non sempre quello che avrebbe desiderato fare. La vacanza perfetta non esiste, ma talvolta basta poco. Comunque sia, buone vacanze.